Avete avviato una raccolta firme che sta proseguendo, che sta andando bene, tante persone si lamentano di non poter arrivare qua con l'auto. Allora la raccolta firme è come dicevo prima appunto in corso, noi a tutti i nostri clienti e non solo cerchiamo di estendere questa nostra richiesta per dare la possibilità alle persone di avvicinarsi al centro storico con due linee urbane, una precisamente in piazza Libertà e l'altra in piazza San Cristoforo che darebbero la possibilità alle persone di avvicinarsi al centro storico e alle loro attività. Un problema che riguarda anche voi come attività economica perché dovete avere il carico-scarico lontano dal negozio. Se questa richiesta venisse ufficializzata anche per noi sarebbe importante avere la possibilità di carico-scarico più vicino all'attività stessa. Al momento la vostra attività funziona lo stesso nonostante la pedonalizzazione, che risposte ci sono anche da alcuni servizi importanti come ad esempio le farmacie, le macellerie, al di là dei negozi di abbigliamento? Certo, ma per quanto riguarda farmacie sicuramente il servizio dell'autobus per le persone, se vogliamo così, meno giovani faciliterebbe l'accesso alle farmacie perché potrebbero scendere appunto con l'autobus un po' più vicino. Per quanto riguarda noi la pedonalizzazione e l'arredo che è stato fatto, devo dire che ha portato un gran flusso di gente e di conseguenza abbiamo anche dei risultati positivi. Manca ancora qualcosa comunque a questa via? Manca il completamento di certe zone, ci sono ancora due cantieri in corso che speriamo vengano ultimati il prima possibile questo per mantenere il decoro e l'arredo della via e poi in linea di massima dovremmo essere a posto. Grazie mille!